Bilancio di fine anno positivo per l'ASET SPA con ben saldo nella mente l'obiettivo della fusione con la holding, definita senza mezzi termini dai vertici aziendali la madre di tutti i progetti. ASET SPA è un'azienda solida, forte e coesa. Nella conferenza stampa di questa mattina il presidente Lucia Capodagli, a sostegno di queste dichiarazioni, ha presentato gli ultimi dati di bilancio relativi al terzo trimestre del 2015, snocciolando dati di tutto rispetto. Un valore della produzione di oltre 27 milioni di euro che fanno segnare un più 0,41% sullo stesso periodo del 2014 come incremento ed un risparmio sui costi operativi che sfiora il 6%. Un'azienda di grande valore di cui tutti i cittadini possono andare orgogliosi e che sicuramente produce valore per il territorio e sempre più ne potrà produrre. Un'azienda pubblica, patrimonio dei cittadini e dei comuni soci, quindi deve guardare al sociale, alla comunità. Ed è per questo che il CDA per la prima volta ha voluto destinare una cifra considerevole, 300 mila euro per il sostegno delle famiglie bisognose. Illustrate anche le linee progettuali per il 2016 di grande impatto ambientale e sociale. La fusione sicuramente si farà visto che il piano industriale sarà presentato tra poco meno di 100 giorni, ma anche importanti opere strutturali. Grandi progetti con molta coerenza con l'utilità pubblica degli stessi, quindi oggi abbiamo siglato un contratto importante per l'ampliamento del depuratore di Ponte Sasso. Abbiamo depositato a lato oggi il progetto esecutivo per quanto riguarda gli scolmatori a mare in Viale Ruggeri, zona Sassoni e Fano. Ci stiamo attivando per la certificazione del laboratorio analisi ASET, un fiore all'occhiello dell'azienda che garantisce la qualità delle acque e l'analisi del rifiuto. In più abbiamo ulteriori investimenti per quanto riguarda la parte informatica dell'azienda, per garantire sempre migliori servizi anche l'utenza e un ulteriore aggiornamento e quindi formazione del personale. Grazie. 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 Grazie.